È terminata la serata del Summit, ringrazio Giacomo Catalani per avermi invitato, ringrazio la TS, è stata un'esperienza entusiasmante, ci sono stati tanti interventi interessanti e questa è la parte culminante di un'attività di Giacomo che permette a tanti ragazzi di poter partecipare e di poter acquisire tante esperienze da altri professionisti. Grazie. Grazie.